Il bilancio del giorno dopo è eccezionale, abbiamo ospitato oltre quasi 80 partecipanti, piloti specialisti del settore, una ventina di club di tutto il sud Italia, la città si è prestata benissimo nella nostra Piazza Libertà, quindi è stata veramente una giornata eccezionale di sport, sport che ha visto tantissimi Under 18 avvicinarsi a questa specialità tipica del Vespa Club, tantissime nella categoria femminile che per noi è sempre un orgoglio, una soddisfazione e veramente devo dire che siamo stati molto molto soddisfatti. I commenti dei partecipanti sono stati eccezionali, quindi noi non possiamo che essere contenti di tutto ciò. Appunto quanto è bello vedere ancora nel 2023 tanta passione per la Vespa? È bellissimo per noi, pure perché cerchiamo di organizzare manifestazioni per mantenere vivo l'interesse su questo mezzo che ha caratterizzato comunque la motorizzazione italiana dal dopoguerra ad oggi. Quindi a vedere tanti appassionati che mantengono in condizioni eccellenti alcuni modelli che hanno quasi 70 anni, giovani che si ritagliano del tempo per una passione sana come quella del Vespa Club, non possiamo che essere soddisfatti. Diciamo che il nostro operato si vede nelle piazze. Il Vespa Club Avellino quanti iscritti conti in questo momento? Gli iscritti, noi l'anno scorso abbiamo fatto quasi oltre 500 iscritti, ma per noi non è il numero che ci dà soddisfazione. La qualità del socio, del tesserato che viene, ci segue, ci supporta nelle manifestazioni, nelle attività e soprattutto, ti ripeto, la qualità del ragazzo che si avvicina a una passione sana che è quella della Vespa e supporta un'associazione come il Vespa Club d'Italia che nel 2022 ha contato 85.000 tesserati. Diciamo che i libri di storia ne sono pieni e in questi anni, tra l'altro il 24 marzo, era l'anniversario della presentazione della Vespa a Ponte d'Era e il Vespa Club Italia nasce nel 1949 in Italia nel primo dopoguerra. Nel 1951 c'è stato spazio anche in Irpinia? Nel 1951, io l'ho detto in piazza ieri con un pizzico di emozione, nel 1951 in Irpinia dei ragazzi poco più che 20 anni avevano un sogno e l'hanno realizzato a piene mani, devo dire, perché fondarono questo Vespa Club Avellino che si affidò subito e ho ricordato in piazza i nomi dei fondatori che era il Petrocione Nunzio, Ferdinando il fratello minore e il grande Giovannino Rosato che era un ragazzo all'epoca appassionato di motori, di meccanica e stava sempre insieme a questi ragazzi con il sogno di fondare il Vespa Club.